domani sera come ogni martedì appuntamento con l'attualità di pg 1 7 in questo numero scomparire nel nulla in una grande città la vicenda drammatica ma tutt'altro che isolata del professor federico caffè odissea sanità cronaca di una giornata di ordinaria emergenza nelle corsie di un importante ospedale italiano 19 anni fa giuseppe pinelli moriva precipitando dalla finestra di un ufficio della questura di milano la vedova licia pinelli lo ricorda a tg 1 7 la città si difende un'inchiesta sorprendente sulla lotta di verona contro l'assedio dell'eroina il nostro inviato per due settimane alle prove della scala con riccardo muti tempeste furori e trionfi per il guglielmo hotel che debutterà mercoledì tutto questo in tg 1 7 domani sera come tutti i martedì dopo il tg